La vicenda dei maltrattamenti ai bambini dell'asilo di Airola, la eco è ancora forte per una brutta faccenda tutta da chiarire, intanto mercoledì cominciano i primi interrogatori delle maestre coinvolte nell'inchiesta. Summit tra i sindaci dell'Interlanda vellinese per affrontare il problema delle polveri sottili che imperversa in maniera preoccupante, previsti monitoraggi a tappeto con l'ausilio di tecnologie avanzate e l'apporto dell'Università di Salerno, tra un mese nuovo vertice per valutare gli eventuali passi in avanti. Nono giorno di crisi a Palazzo Mosti con la situazione politica che pare avvitarsi su se stessa, domani Mastella torna in città e potrebbe essere previsto un incontro anche per dipanare le impasse, intanto la Lega stoppa il sindaco dimissionario che replica con durezza ai proclama del Carroccio. Festa grande ad Avellino per i cento anni di zio Domenico Zarrella, festeggiato in famiglia alla presenza del sindaco Festa e della collega di Torrioni Oliviero. Buonasera, buonasera dal nostro telegiornale, partiamo con la vicenda dei presunti maltrattamenti presso l'asilo di Airola, sono coinvolte alcune maestre molto giovani, intanto mercoledì cominceranno i primi interrogatori per cercare di fare chiarezza su questa vicenda che ha scosso e turbato non soltanto la Valle Caudina ma tutta quanta la provincia di Benevento e non soltanto. Il servizio. La vicenda dell'asilo di Airola tiene banco, mercoledì dovrebbe essere il giorno degli interrogatori di garanzia per le quattro maestre indagate. La storia si consuma tutta nelle aule della scuola privata frequentata da bimbi piccoli che sarebbero stati maltrattati, picchiati e messi in castigo in una stanza buia ad inchiodare le maestre le immagini delle videocamere che avrebbero ripreso le scene dei maltrattamenti. Le maestre indagate, due di Airola, una di Bucciano e una di Sant'Agata dei Goti, sono state allontanate dalla scuola con il divieto di dimora nel comune Caudino in attesa che sul caso si faccia chiarezza e luce sulle effettive responsabilità. Intanto pare che per una delle maestre la situazione sia apparsa già diversa. pare che questa non abbia effettivamente maltrattato i bambini in prima persona ma che si sia limitata a non difenderli dalle altre donne che invece materialmente compivano atti violenti e mortificanti. Insomma, per una delle maestre la colpevolezza dovrebbe risiedere nel fatto di avere taciuto rendendosi complice per non avere parlato. Le immagini delle videocamere intanto sono al baglio degli inquirenti e serviranno a capire meglio come siano andati i fatti. L'allarme è scattato nel novembre del 2018 con la denuncia di una mamma ma le telecamere sono state fissate negli ambienti scolastici solo dopo una prima indagine. Sotto la lente degli investigatori quindi le immagini riprese in un periodo di circa un mese per un atteggiamento anomalo verso i bambini che ha una media di uno al giorno. La pagina della politica sabato scorso, l'arrivo a Benevento del coordinatore regionale della Lega Molteni ribadito il niet nei confronti di una possibile ricandidatura di Mastella in un ipotetico ricompattamento del centrodestra. Ci sono state anche le repliche del sindaco di Benevento e anche dei suoi più stretti collaboratori che hanno parlato di parole inaccettabili e naturalmente di andare avanti per la propria strada senza aspettare l'appoggio del carroccio. Se Mastella si aspettava dalla venuta a Benevento del coordinatore della Lega Molteni qualche segnale in più per la sua probabile seconda vita a Palazzo Most sarà rimasto assai deluso può sempre rimprovare con Salvini che già gli ha fatto capire che non c'è partita ma si sarà persuaso che il ruolo che maggiormente gli si addice, quello di ago della bilancia appare probabilmente superato. A Benevento all'Una Hotel Nicola Molteni il coordinatore regionale della Lega non ha affatto escluso l'unità del centrodestra, ha solo chiarito che è la linea della discontinuità quella che verrà seguita all'interno dello schieramento moderato o quantomeno in un centrodestra nel quale figuri anche la Lega. In sintesi è questa la cosa di maggiore interesse che fa seguito al sabato pomeriggio politico. La scelta del candidato sindaco ora o l'anno prossimo non sarà mastellocentrica ma supererà l'attuale leadership carismatica per aprirsi a nuove esperienze e a un candidato che sappia mettere insieme e coagulare forze nuove e di natura programmatica e di natura meramente politica. Non c'è dubbio che il centrodestra unito e il centrodestra compatto sia un valore, tuttavia noi siamo favorevoli a una discontinuità per quel che riguarda il candidato a sindaco e è giusto cominciare con i programmi, approfondire il contesto politico, cercare di dare finalmente al nostro sanno una prospettiva di sviluppo. Diffiutiamo la logica culturale e politica di conquista del sud e di Benevento imponendo condizioni arroganti e velleitarie. Il loro pensiero rimane il fisso, il nord e i problemi del nord e Mastella rappresenta un ostacolo per le loro mire espansionistiche. Questa è la nota mastelliana che prende di mira anche Pina Pedà, consigliera un tempo di maggioranza ed ora di fede leghista. Qualche leghi nordista, prosegue il comunicato, avrebbe dovuto ricordare a Molteni che è stata eletta con la lista Mastella e poi folgorata sulla via di Pontida. Sulla Lega non ci abbiamo mai contato così come non contiamo né contavamo su apporti leghisti al progetto amministrativo già sperimentato e vincente. Schermaglie tattiche in vista di abbocamenti futuri. Nella contingenza attuale tutto può accadere, anche che tutta questa virulenza si trasformi in breve tempo in ben altro. Per ora appare difficile una convergenza, ma nei 12 giorni che verranno si accettano scommesse. Piccolo giallo questa mattina intorno alla possibile riunione della conferenza dei capigruppo per un consiglio comunale che affronti il tema della crisi a Palazzo Mosti. Il presidente Domenico aveva in un primo momento fissato per domani la data della conferenza, poi si è accorto di impegni professionali e personali che si erano andati a sovrapporre allo stesso tipo di argomento e qui naturalmente nello stesso orario. Poi c'è stata, a distanza di pochi minuti, la rettifica che lascia spazio anche a qualche perplessità. Ma intanto Domenico stesso alla nostra emittente dice che è stato solamente un mio errore e naturalmente non si sa poi quando potrà essere fissata la nuova conferenza dei capigruppo. Domenico ha 20 giorni di tempo per poter fissare la data e probabilmente discutere in quella sede della crisi, come chiedeva anche il PD. Intanto Civico 22 è alle prese con le defezioni di Pasquale Orlando e di Ettore Rossi. Defezioni poi fino a un certo punto perché Pasquale Orlando resta organico ai laboratori. Abbiamo chiesto a Pasquale Basile se insomma il movimento, l'associazione rischia l'implosione. Basile dice che non è così e lo articola. Sentiamo. Civico 22 rappresenta il primo tentativo di costruire un percorso nuovo all'interno di un tessuto politico sclerotico che si intende ribaltare. A parlare Pasquale Basile è uno dei tetrarchi dell'associazione che negli ultimi giorni ha dovuto incassare due defezioni importanti, quella di Pasquale Orlando che ha fatto rotta verso Italia Viva e quella di Ettore Rossi che fa un passo di lato e intende riflettere su quanto sta accadendo in conseguenza della crisi politica scatenata da Mastella. Basile rifiuta la narrazione della implosione del movimento. Ci sono 330 attivisti iscritti ai laboratori, segnale di grande intensità e partecipazione, un modello rivoluzionario di approccio ai problemi della città, il primo vero tentativo ecumenico di affrontare i grandi temi che affliggono Benevento. E tuttavia l'accelerazione data dal sindaco alla dinamica politica ha spostato in avanti l'asse costitutivo di Civico 22 che avrebbe necessitato di tempo per maturare la proposta politica. Basile è però fiducioso che nonostante il clima convulso si riesca ad essere pronti per l'eventuale appuntamento col voto anticipato. Rispetto all'accelerazione noi saremo pronti, qualora tutte le altre persone che in questa fase compongono Civico 22 con la partecipazione e l'entusiasmo, consulteremo anche le associazioni che hanno deciso di interloquire e di aprire un confronto sulla città, sui temi, attraversando questo spazio di Civico 22 e valuteremo serenamente il da farsi. E nei confronti di Orlando e Rossi ha parole di stima. Sicuramente di massima stima nei confronti di Pasquale, nei confronti di Ettore e delle scelte che hanno compiuto. E' chiaro che se una persona decide di intraprendere una carica politica, cioè una carica prettamente partitica, è una contraddizione un po' in termini, però io sono convinto che Pasquale farà benissimo il suo lavoro e che continuerà a essere una persona che contribuirà in maniera feconda al percorso di Civico 22. E ora andiamo ad Avellino per parlare dell'annosa questione che c'è tra gli ambulanti di Campo Genova e l'amministrazione comunale. Oggi c'è stato un infuocato faccia a faccia, attimi anche di tensione con il sindaco che è sceso di prima persona per cercare di plagare gli animi dei suoi antagonisti. Il servizio. Attimi di tensione a Campo Genova durante il sopralluogo degli ambulanti sull'area che ospiterà il mercato bisettimanale di Avellino fino alla fine dell'anno, sostituendo il piazzale dello stadio destinato al terminal bus. La miccia si è accesa all'arrivo del sindaco, gli animi già esasperati dei commercianti, infatti di fronte ad una location senza gli stalli predisposti né canaline di reggimentazione e scolo dell'acqua piovana, pochi bagni rigorosamente chimici rispetto ad un'ordinanza che indica nella giornata di domani l'apertura del mercato, hanno attaccato Gianluca Festa sul posto con una mezz'ora di ritardo insieme alla sua vice, Laura Naggi e i vigili urbani. Alle accuse il primo cittadino ha risposto a muso duro ribadendo che gli ambulanti non in regola sarebbero rimasti fuori dai nuovi posteggi, così come lo sono già colori quali hanno la partita IVA scaduto o la licenza decaduta. Da qui gli insulti, da bugiardo a pagliaccio fino a camorrista autorizzato che hanno fatto infuriare la fascia tricolore. Un botte risposta piuttosto vehemente che ha fatto temere come il violento scontro verbale potesse degenerare. Tant'è che sono arrivati altri tre agenti della municipale con il comandante Michele Arbonio, mentre la Digos teneva a bada la situazione non senza qualche apprezzione. Una parte dei commercianti si è allontanata subito, un'altra invece ha avuto con Festa quello che poi è stato un confronto civile probabilmente costruttivo per i giorni a venire. Festa ha cercato di mettere in chiaro ogni elemento della vicenda, mostrando anche il bicchiere mezzo pieno di un'area mercatale con più ingressi pedonali e tre parcheggi per una capienza complessiva di 200 posti auto. Ora il problema da risolvere mentre gli operai continuano a lavorare è quello di assegnare gli stalli in base all'anzianità acquisita sul campo dai vari commercianti. I posteggi saranno solo 208-210 sui 247 precedenti. Per mettere tutti d'accordo, domani pomeriggio si svolgerà una riunione presso il comando della Polizia Municipale e si fisseranno le singole postazioni, mentre in mattinata si prevede un'altra rinuncia motivata a svolgere il mercato da parte dei commercianti. A Ravellino si è discusso della pericolosità e anche dell'emergenza delle polveri sottili e dello sforamento appunto legato a questo tipo di emergenza, quindi all'inquinamento che c'è in città, la riunione dei sindaci dell'Interland Avellinese e con le nuove tecnologie che l'Università di Salerno ha messo a disposizione. Sentiamo il servizio. Tavolo sullo smog a Palazzo di Città e confronto tra il sindaco di Avellino e i colleghi del comprensorio, oltre ai tecnici dell'ARPAC. Con il capologo Irpino che segna già 22 sforamenti sui 35 permessi in tutto l'anno, la situazione, al di là dei sorrisi di circostanze piuttosto critica dalla riunione, è emersa la volontà di riprendere un discorso di collaborazione che vada anche oltre il protocollo priolo e le azioni previste. Gianluca Fessa ha chiesto all'ARPAC di fornire una lettura più dettagliata sui rilievi e ha assunto il compito di contattare l'Università di Salerno dove è stata progettata una start-up che permette un monitoraggio dell'aria su un territorio più vasto con diversi punti di rilevazione e distingue le fonti di inquinamento. Tutti d'accordo, infatti, che bisogna verificare i fattori che hanno determinato gli sforamenti e qual è l'area interessata. Intanto i sindaci valuteranno i divieti e la più stringente regolamentazione dell'ordinanza in vigore in città che vieta gli abbruciamenti e avvia una serie di controlli su forni e camini a biomasse e impianti di riscaldamento, oltre all'inserimento nelle nuove costruzioni di un regolamento che vieta, dove è presente la metanizzazione, l'installazione appunto di stufe e camini, mentre dove già ci sono vanno applicati filtri per abbattere i fumi. L'assessore all'ambiente del comune di Mercogliano e il sindaco di Monteforte d'accordo sul monitoraggio stretto per quanto riguarda sempre l'inquinamento atmosferico, degli abbruciamenti e i controlli a tappeto sugli impianti di riscaldamento che sembrerebbero essere alla base dell'inquinamento molto più che lo smog delle auto. La soluzione è sicuramente una strategia condivisa, vanno trovate delle soluzioni che possono coinvolgere tutti i comuni, chiaramente la posizione geografica dei vari comuni fa sì che nel momento in cui si parla di inquinamento atmosferico, questo va a raccogliere tutti i comuni che confinano tra di loro. Noi come Mercogliano siamo un po' distaccati, abbiamo una posizione un po' più alta rispetto alla valle, tuttavia però siamo anche noi vittime dell'inquinamento atmosferico che attanaglia il territorio. Vanno considerati chiaramente gli aggiornamenti delle revisioni delle caldaie dei vari condomini dei privati, l'utilizzo delle stufe a pellet, dei termocamini, gli abbruciamenti degli agricoltori che diciamo per noi che siamo un po' più in zona di montagna va regolarizzato un po' di più. La posizione del comune di Montforte fa rispettare giustamente la legge, è importante molto diciamo le caldaie, le stufe a pellet, i camini vanno controllati per bene, le revisioni delle caldaie vanno fatte regolarmente, questo dobbiamo fare massima attenzione per fare in modo che non ci sia il massimo inquinamento. Il problema io credo che non sia il blocco delle auto, specialmente poi su un'arteria come Montforte che per bloccare le auto diventerà un vero e proprio problema. Il comune di Avellino vara un piano pluriennale per il completamento delle opere pubbliche, un piano da 113 milioni di euro. Il servizio. Un piano pluriennale per le opere pubbliche da 113 milioni di euro per chiudere il capitolo in compiuto e avviare i nuovi interventi in programma. L'amministrazione comunale di Avellino vara la prima pianificazione dell'era festa che andrà a spalmarsi dal 2020 al 2022. In base allo schema approvato i lavori pubblici riguarderanno scuole, periferie, palazzi storici come il Vittorio Gola, Dogane e Villamendola ma anche gli alloggi popolari e gli impianti sportivi. Intanto un primo dato. Nel piano emerge che la conclusione del tunnel è fissata al 2021. Per le ultime opere infatti mancano all'appello ancora quasi 600 mila euro, ma per l'anno in corso sono previsti lavori per soli 57 mila euro. In attesa di variazioni in corso d'opera stesso lasso temporale è previsto anche per la riquilificazione del Vittorio Gola, finanziata attraverso i PIX per un importo di circa 2 milioni di euro. La ristrutturazione della Dogana invece con la realizzazione del centro servizi per ben 3 milioni e mezzo di euro, sempre fonte PIX, sarà finita per il 2022. Nel corso dell'anno intanto sarà realizzata l'agenzia turistica per l'area vasta all'interno della Casina del Principe e la sistemazione di Villamendola e del suo giardino botanico. Il nuovo campus della Dante Alighieri dovrebbe essere pronto nel 2023, ma tutto dipenderà dall'erogazione del finanziamento da 17 milioni di euro da parte della regione. Tanti poi gli interventi in programma per migliorare la sicurezza nelle scuole cittadine. A Burgoferrovia sarà realizzata una nuova scuola media, mentre quella primaria e dell'infanzia sarà adeguata sismicamente. Infine, pronti anche 5 milioni di euro per rimettere a nuovo la scuola media Enrico Cucchia. Entro il 2022 si punterà anche a realizzare la tensostruttura del campo Coni con il nuovo impianto sportivo per il calcio al 5, il rifacimento del campo B del Partenio in erba sintetica e la ristrutturazione degli spoglietoi, oltre a rimettere a nuovo anche il campo sportivo di Burgoferrovia e quello di San Tommaso. Il programma prevede anche la bonifica dell'isochimica che secondo le previsioni dovrebbe terminare tra tre anni, mentre su periferie e alloggi di edilizia residenziale pubblica, riflettori puntati su Quattrograni, Rione Parco, il completamento delle case di contrada baccanico e a breve quello di via Francesco Tedesco. E torniamo a Benevento per parlare del piano periferie della nuova sistemazione di piazza di sorgimento e della zona del terminal bus. C'è stato anche oggi un botte risposta tra Gabriele Corona, di Altra Benevento e l'assessore dell'ambiente Antonio Reale che difende l'operato dell'amministrazione. Intanto per oggi c'è stato anche un volantinaggio stamattina da parte degli attivisti di Lappasilio 31 che chiedono che il terminal bus resti dov'è. La vicenda legata al bando periferie che nei disegni dell'amministrazione Mastella dovrebbe portare ad una radicale trasformazione dell'area di piazza di sorgimento dell'attivo terminal bus di via Pertini, un piano che prevede la costruzione di un parcheggio sotterraneo e di un edificio semi-interrato di 17 metri. La conferenza stampa di Altra Benevento di venerdì ha evidenziato le anomalie di un progetto che assomiglia molto ad una speculazione edilizia, benché l'assessore all'urbanistica reale dalle colonne di Il Mattino abbia replicato a muso duro a Gabriele Corona sconfessando le posizioni dell'associazione. Stamattina un volantinaggio da parte degli attivisti di Lappasilio 31 per mettere in risalto le discrasie di un progetto che secondo Alessandro Tucci non possiede i crismi della razionalità. Se immaginiamo quanti pendolari arrivano tutti i giorni a Benevento con gli autobus di linea, consideriamo almeno un 3.000 cittadini che ogni giorno si spostano in tutta la città. Crediamo che sia un caos innanzitutto dal punto di vista dei piani traffico e della gestione dell'emergenza e dell'arrivo dei pendolari e dell'accoglienza dei pendolari nella città. Se pensiamo che poi questi pendolari si devono spostare da Rione Ferrovia dove è previsto lo spostamento del terminal bus in una struttura a due piani, crediamo che ci sia anche una sottovalutazione del problema di impatto ambientale che potrà avere questa questione sulla nostra cittadinanza. Torna in auge la questione legata alla partecipata della provincia di Benevento per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Oggi c'è stata una protesta formale di 11 lavoratori che hanno semioccupato la sede della partecipata alla pace vecchia. Sentiamo. Non lo so, non lo so, ma scherziamo. Allora non hai soldi, non puoi tenere questa azienda, chiudiamola. Chiudi se è lui. Vediamo un po'. Lo che attuano automaticamente, illudine, persone che hanno famiglia, hanno problemi, tutti quanti qui abbiamo problemi. E arrivi alla fine dice non lo so, ma non si può giustificare questa cosa. È un'odissea alla vicenda Samte che investe il destino di 51 lavoratori nei confronti dei quali la provincia di Benevento ha da molto tempo reso palesi le proprie intenzioni. La liquidazione della partecipata, ufficializzata a dicembre, ha posto una condizione di base per quanto riguarda l'intera questione e proposto ai lavoratori intenzionati ad accettarlo il contratto di solidarietà. A nulla sono valse fino a questo momento le riunioni in sede regionale e in quelle locali, dinanza di una vicenda che fa segnare un epilogo scontato. Oggi presso la sede della Samte di Benevento in undici sono tornati a manifestare, delusi anche dell'atteggiamento ormai indeferibile della stessa azienda. Intanto ci hanno dato comunque da un full time a un part time, cioè con due giorni a settimana noi dovremo comunque campare una famiglia. Poi quello che devono darci neanche ce lo stanno pagando, a questo punto conviene di essere licenziati o tantomeno si tolgono dal mercato perché non sono in grado di portare avanti questa situazione. O forse è quello che vogliono, perché quello che abbiamo capito noi, che vogliono smembrare l'azienda per venderla un privato. All'Assemblea non sono lavoratori ma anche ex dipendenti. È il caso del signor Marinaro che ha accettato il licenziamento dell'azienda non ritenendo accettabile il part time. Abbiamo dei crediti dalle amministrazioni, non da persone private, cioè quelle persone che dovrebbero tutelare lo stato sociale del territorio sono quelli che devono darci soldi. Ma dove siamo arrivati? Veramente è il colmo dei colmi, cioè il Presidente della Provincia dovrebbe essere una delle tante istituzioni che deve tutelare la dignità e la vita delle persone che aprono il territorio. I sindaci, è la stessa cosa, dovrebbero essere delle persone che dovrebbero tutelare le persone più deboli. E ora andiamo all'unifortunato, a Benevento per un ciclo di convegni, shoha, memoria, didattica e diritti. Oggi è toccato, tra virgolette, a Thomas Mann e alla questione ebraica. Sentiamo il servizio. Thomas Mann e la questione ebraica negli anni antecedenti e successivi all'avvento del nazionalsocialismo in Germania. La figura del grande scrittore dei Budenbrock e la morte a Venezia, tanto per citare due dei grandi romanzi dell'ansiatico, negli anni bui della presa del potere di Hitler, che egli visse con angoscia e profonda avversione, tanto da esiliare volontariamente prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti. Mann, premio Nobel per la letteratura nel 1929, non vese mai più ritorno in Germania sin da quel 1933, quando riparò a Zurigo e poi dal 1939 in California, nemmeno quando, a guerra finita, gli fu offerta alla carica di Presidente della neonata Repubblica Federale Tedesca. Preferì restare nel cantone di Zurigo dove morì nel 1955. L'Università Telematica Giustino Fortunato ha inteso in centrare sulla figura dello scrittore di Lubecca il quinto dei sette incontri programmati nell'ambito del laboratorio Shoah Memoria Didattica e Diritti, promosso e coordinato dal professore Palumbo. Relatore Domenico Conte, ordinario di Storia della Filosofia presso la Federico II di Napoli, che ad un pubblico di adolescenti ha spiegato le mille contraddizioni di un periodo storico complesso e brutale e, in quel contesto, l'azione di un intellettuale del tutto immerso in quelle contraddizioni, fin anche ambiguo rispetto alla suscitata questione ebraica. La contrarietà al sionismo, per esempio, già espressa dal 1907 e la necessità invece di una maggiore integrazione dell'elemento ebraico in un tessuto sociale come quello tedesco, non più problematico rispetto ad altre nazioni d'Europa, basti pensare alla Francia o la Russia azzarista e poi sovietica e alle relative discriminazioni. Sono un convinto filosemita e credo fortemente che un esodo del tipo di quello sognato dai sionisti e penso che la massima sventura in cui potrebbe incappare la nostra Europa sarebbe proprio Sion, ovvero sia, diciamo, la fondazione di uno Stato di Israele indipendente che radunasse tutti gli ebrei che invece evidentemente vivificano il tessuto anche dell'Europa. I cento anni di Domenico Zarrella, un bel esempio di longevità e di grandissima lucidità. Sentiamo il servizio di Marese Calzone. Quello che raccomando è di essere bravi con tutti, volerci bene perché qua sulla terra stiamo per poco tempo. Ho avuto la fortuna. Ho avuto la fortuna io, ho avuto la fortuna io, ma non tutti possono avere la stessa forza. Un compleanno molto speciale, cento candeline da spegnere. La festa è tutta per Domenico Zarrella, nato a Torrioni in provincia di Avellino il 9 febbraio 1920. Una vita segnata dalla guerra, dai ricordi amari di un periodo storico difficile ma compensato poi dall'amore della famiglia che ha creato due figli e quattro splendidi nipoti. Il signor Domenico ha festeggiato questo compleanno speciale con le persone più care e con la simpatia che lo caratterizza da sempre. A casa Zarrella arriva anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa e quello di Torrioni, Anna Maria Oliviero, che gli ha consegnato una targa per suggellare questo momento unico. Io sono venuta e vi porto gli auguri dell'amministrazione comunale, di tutto il paese, ma sono emozionata innanzitutto perché è lo zio. Io ricordo con enorme affetto quando da bambina stavo da nonno e lui arrivava rigorosamente in cravatta, quindi questo ricordo, sempre con modi gentilissimi e dolci ed è rimasto tale. È una persona che ha tanto da insegnarci, ha vissuto un centenario, le vicende belle e brutte, la guerra, ha partecipato attivamente alla guerra come ha raccontato, come ha avuto modo di raccontare e quindi ha un patrimonio di valori, di cultura da trasmetterci e per noi deve essere per tutti un esempio. Voletevi bene, questo resta nella vita, il messaggio di Domenico che dopo 100 primavere guarda al futuro con ironia e saggezza. Prendiamo come esempio la vita di Domenico con l'auspicio che la possiamo ripetere, infatti io ho chiesto quale possa essere il suo segreto, ho detto che il prossimo anno quando festeggeremo 101 anni comincerà a raccontarci il suo segreto che poi nei prossimi anni svelerà tutto, quindi abbiamo ancora tanto tempo. Nel frattempo, tanti auguri Domenico. Cinque la barca va. Lasciala andare, tanti auguri e un applauso. Auguri. Parole d'oro e sante quelle di Domenico Zarrella. Intanto il Benevento che vince anche a Cosenza, vince addirittura con un uomo in meno, ha giocato per molti minuti senza un giocatore, è espulso per rosso diretto, Domenico Passaro. Neanche assenze, infortuni squalifiche ed episodi arbitrali frenano un Benevento, sempre più da record. Nella gara più complicata per gli sviluppi nel rettangolo di gioco, la strega centra il quinto successo di file in trasferta e vola più 17. Un successo firmato dall'arcobaleno di Roberto Insigne, disegnato da un pennello montato sul mancino del folletto, il timbro finale. Di Lorenzo Montipo, miracoloso all'ultimo assalto per l'ablindare tre punti, anche in inferiorità numerica. La scuola di Inzaghi scrive pagine memorabili della storia della Serie B. Faccio fatica a trovare parole, bisogna fare complimenti a questi ragazzi perché... Il tecnico non ha più parole. Al posto di quelle ci sono i numeri che i suoi ragazzi stanno inanellando, i ritmi sono serratissimi. All'indomani del successo del San Vito Marù, La Viola e i compagni sono tornati già in campo in vista della casalinga di sabato con il Pordenone. Lavoro di scarico perché ha giocato, allenamento per i pochi altri. Sabato Inzaghi dovrà fare a meno di volta e schiattarella, ma potrà contare i suoi rientri di Maggi ed in prota, contando anche su qualche recupero dall'infermeria. Barba si è già messo in luce e si candida per una nuova maglia da titolare. Tui e Vokic saranno reinseriti gradualmente in gruppo, mentre Gianfi ha rimediato una botta in allenamento proprio a poche ore dal match, nel quale probabilmente avrebbe avuto spazio, ma anche in questo caso si pensa ad un recupero immediato. Per questi giorni resteranno ancora fuori André Steglio ed Oliver Kragol, ma Inzaghi sa che con questo spirito non c'è imprevisto che tenga. Lavellino ha le prese con i problemi societari, il passaggio delle quote tra Circelli e Izzo, ma le polemiche sono tantissime. Il servizio. Siamo arrivati a questo punto, semplicemente dovete chiederla a Izzo perché siamo arrivati a questo punto, perché io nel momento in cui mi hanno messo la città contro e più che dirvi datemi quello che è mio, me ne vado, io non devo, non so più che dire. Oggi però siamo arrivati al punto che vedo veramente delle cose assurde, allucinanti, dove uno ti scrive, non ti risponde, poi dice non vado più dal notaio, lui va dal notaio, io non so l'indirizzo, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Io mi aspettavo che mi rispondesse, a quest'ora ci vediamo dal notaio, te li do così, la liberatoria è pronta. Io andavo dal notaio, perché la mia parola è una, ho detto che pagami e vado via, ma il mio, perché io non voglio fare speculazioni, come dice lui. Erano stati chiesti 100.000 euro perché avevo garantito io per Di Matteo ed erano di Di Matteo. La mia cifra, a calcoli fatti, siamo arrivati non a 50, ma a 57, perché tutto quello che è successo dopo la partita in casa che lui fece il giro dello stadio, poi è sparito. Ce lo siamo tutti accollati noi. Allora, il mio impegno è quello di rispettare le scadenze che abbiamo, a partire da mercoledì, nel caso in cui mercoledì non si riesca, ma comunque ci sarà una proroga perché stanno nuovi ingressi, e a quella di venerdì, che volendo potrebbe essere pure lunedì, ma già siamo pronti a venerdì di pagare gli stipendi, e così via tutti gli altri mesi. Per quanto riguarda la questione societaria, il prossimo passo con la società è domani entro mezzogiorno sul conto corrente voglio il bonifico di 150.000 euro, che è la loro quota parte, per pagare. Dopodiché, non lo faranno loro, lo faremo noi con aumento di capitale, e poi verranno tutte le conseguenze. Vogliono uscire? Non c'è problema. In chiusura, ma prima di chiudere vi ricordiamo l'appuntamento alle 21 con Free Sport, la trasmissione sportiva di Antonio Martone, alle ore appunto 21. Allora c'è il meteo regionale, poi muoversi in campagna, a tutti la più cordiale buonasera. Il meteo è presentato da e poi muoversi in campagna, e poi muoversi in campagna, e poi muoversi in campagna, Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 7 bis terra di lavoro nel tratto compreso tra Lago Patria e Nola, restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari, fino al 27 marzo nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17. Sulla tangenziale di Napoli, per lavori dalle 22 del 10 febbraio alle 6 dell'11 febbraio, è interdetto al traffico il tratto compreso tra le uscite Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Acamir Muoversi in Campania, Marina d'Apicia. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania. Grazie a tutti.